Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Le analisi del campione, prelevato sabato pomeriggio dalle acque del fiume Pescara, hanno rilevato la presenza di una miscella di gasolio e di frazioni di idrocarburi più pesanti, oli combustibili o bitumi. In particolare, nel campione è stata individuata la presenza di idrocarburi con un numero di atomi di carbonio da 10 a 40. Sabato, i tecnici del distretto Arta di Pescara, a seguito di alcune segnalazioni giunte, anche tramite i canali social, hanno eseguito prelievi di acqua per il campionamento sulla sponda sud del fiume. Una marea nera è stata notata da alcuni diportisti, che hanno poi fatto girare le immagini. La prima ipotesi al vaglio dei carabinieri forestali e della Capitaneria di Porto è che qualcuno, un recidivo, abbia pulito i serbatoi delle barche e poi scaricato gli scarti nel fiume. Una ricostruzione sostenuta anche dal sindaco Carlo Masci. Intanto è partita la bonifica per proteggere il mare. Qui siamo alla recidiva perché l'anno scorso, nello stesso giorno, è successa la medesima cosa. Qualcuno, evidentemente, pulisce i serbatoi in prossimità delle ferie ferragostane e invece di scaricare il liquame o comunque il catrame nelle procedure previste per legge, scarica direttamente nella rete fognaria. Quindi la rete fognaria con questi liquidi oleosi va anche in tilt e alla fine questa chiazza ce la ritroviamo sul fiume. Io mi auro che chi ha fatto questa azione venga assicurato alla giustizia perché queste cose sono veramente vergognose, perché danneggiano l'ambiente, perché danneggiano la collettività, perché comunque sono atti che oltre a essere fuori dalla legge hanno anche una sorta di negatività in sé per la collettività. I tecnici dell'Arta hanno inoltre anticipato le analisi sul tratto di mare a ridosso della foce del fiume Pescara per verificarne la baleabilità. Verranno effettuate anche indagini per rilevare l'eventuale presenza di idrocarburi riversati in mare dal fiume. Gli esiti saranno pronti nella giornata di domani.